Ciao a tutti, sono Lorenzo Marcelli, presidente della 3M Training Lab. Noi ci occupiamo di benessere fisico a 360 gradi, quindi dalla preparazione atletica di atleti professionisti fino all'attività motoria per la terza età. Grazie a Mattia abbiamo presentato un progetto europeo, Get Sporty Stay Healthy, del valore di 55.000 euro e per una durata di 18 mesi. Ma ovviamente non ci fermiamo qui e siamo proiettati al futuro. Proprio per questo abbiamo presentato con Mattia altri tre progetti sull'attività motoria perché è fondamentale far capire quanto sia importante nella nostra vita quotidiana. Quindi se avete intenzione di presentare un progetto europeo sicuramente Mattia è la persona giusta per la sua competenza, serietà e professionalità.